Viabilità e trasporto pubblico a Venezia seguono logiche obsolete secondo il Partito Democratico che avanza una serie di proposte per rivoluzionare completamente la circolazione in città. A partire da Piazzale Roma dove dopo le 9.30 di mattina non dovrebbero più arrivare autobus sostituiti da una maggiore frequenza di corsa del tram, uno ogni 5 minuti, mentre tutti i mezzi automobilistici verrebbero dirottati nei due hub di Piazzale Cialdini e della stazione ferroviaria. Le linee che confluiscono dalle varie parti della città metropolitana e del comune di Venezia possono scambiare, i passeggeri possono scambiare il mezzo con treno oppure con tram. In orario serale la proposta è invece di ridurre la frequenza del tram da una corso ogni 10 minuti a una ogni 12 e utilizzare i risparmi per finanziare nuovi collegamenti con le zone periferiche. Territori che in questo momento sono poco serviti e che questa amministrazione ha voluto penalizzare. Pensiamo da un lato a Zellarino, dall'altro a Campalto, Favaro e Villaggio Laguna dove poi in tutti questi territori c'è un'altra percentuale anche di anziani che ovviamente hanno un estremo bisogno di utilizzare i mezzi pubblici. Il responsabile populista secondo il PD è stata l'abolizione delle ZTL che andrebbero reintrodotte e incrementate per ottenere anche nuove corsie preferenziali per il tram. Sono migliaia i morti ogni anno che ci sono a causa delle polveri sottili e è una cosa importante al tempo stesso favorire quanto più il trasporto pubblico.